E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guedotora Montano Oggi è una giornata molto speciale perché sono qui per presentarvi due prodotti Ma uno, il più feco, per me, che è un particolare 2 in 1 che sul mercato sicuramente non avete mai visto sino ad oggi Perché sono solo io che vi porto le chicche informatiche più belle qui su YouTube Quindi un bel like sempre per supportarmi, mi raccomando ragazzi Ebbene, quindi uno di questi due prodotti che andiamo a vedere oggi sarà regalato da me per voi Ovviamente più partecipate, quindi più saranno i partecipanti a concorsi di questo tipo Più saranno i premi in paio da qui in avanti, come già vi dissi nella scorso giveaway Ma che cos'è giveaway come dice la copertina qui dietro? Giveaway significa che io vi regalo delle cose De conseguenza, tanti pollici in su, supportate il video per tanti altri premi qui in regalo Il primo prodotto che vi voglio presentare oggi ve lo faccio vedere perché è davvero un best della tecnologia Non è in regalo questo prodotto ma non posso che non mostrarvelo Infatti ha un modico prezzo di 20€ su Amazon ed è il powerbank più piccolo ma più potente di Amazon Infatti è un powerbank che fa anchor di soli 5000 mAh Ma è, come si dice, nella botte piccola c'è il vino buono E' fatto veramente ad hoc, infatti con i suoi 5000 mAh Ha un peso piuma e soprattutto è fatto di materiali molto particolari Che permettono praticamente al powerbank stesso di riuscire ad essere così leggero Che quasi in tasca non si sente Quindi ragazzi, davvero, vi consiglio se state cercando un powerbank portatile Ma nel contempo performante al massimo Di comprare questo, perché? Perché ho provato sia a ricaricare il mio Samsung Galaxy Note 8 E lo ricarica in circa 1 ora e 20 minuti perché supporta la Quick Charge 3.0 E soprattutto riesce a tenere test anche alla scarica del mio MacBook Infatti se collego il powerbank, seppur di 5000 mAh al mio MacBook Il MacBook si scarica molto più lentamente Di come quando non è collegato all'alimentazione Ma di conseguenza è piccolo ma davvero potente e fatto bene Inoltre è materiali molto pregiati Soliti di anchor E c'è da specificare che nella custodia del powerbank esce come solito Il cavo ultra rapido di anchor Per caricare il nostro smartphone o anche il powerbank stesso ovviamente Ed esce la bellissima custodia in stile rete di anchor Con il simbolino accanto che mi fa davvero impazzire Ma passiamo al pezzo forte di questo video E cioè il prodotto che vi sto per regalare Ebbene Direte il solito powerbank? Ebbene no Perché vi sto per regalare un prodotto molto molto particolare Dalla confezione regalo Infatti che vi arriverà direttamente a casa Dopo aver partecipato al concorso Ci sarà la scatola La garanzia per due anni Un cavo di alimentazione Oltre ovviamente al manuale Il cavo aux E adesso vi chiederete perché E il powerbank Ma il powerbank in questione non è un powerbank normale È un powerbank molto molto speciale È l'unico prodotto su Amazon Quasi sul mercato E non ne ho visti altri Che fanno cose di questo tipo Ebbene Stiamo parlando di un prodotto molto leggero Che ha una possibilità di carica Al suo interno di 3000 mAh di capacità Quindi praticamente non una carica piena di un Samsung Galaxy Note 8 Ma l'80% della carica stessa sì E quindi già qui stiamo parlando del primo prodotto Ma nel contempo questo prodotto è un 2 in 1 Cioè oltre ad essere un powerbank E anche cassa Stiamo a sentire come suona questo piccolo e grande powerbank Il powerbank in questione Come avete potuto vedere Ha una qualità audio assurdamente potente È molto limpida Quindi si ricarica in 2 ore Funziona in alimentatore Per il telefono Fino a 3000 mAh di capacità Riesce a dare un audio Al massimo della potenza Per circa 5 ore Cosa volete di più della vita? Niente Se non partecipare al concorso per vincerlo Non dovete fare altro Che due passaggi molto semplici Lasciare un like al video Commentare qui sotto con partecipo E di converso Condividere il video su Facebook Dopo 5 ore dalla pubblicazione Quindi quando sotto al post Sarà ben visibile Che l'ora di pubblicazione Sarà da 5 ore 6 ore 7 ore 9 ore Un giorno Due giorni In poi Non prima quindi delle 5 ore Dalla pubblicazione Farete uno screen Al post Che avete pubblicato Per l'appunto su Facebook Sulla vostra bacheca E invierete questo screen Alla mia email personale Tramontano41 Chiocciola Gmail Punto com Per partecipare quindi Mi invierete queste email Io le riceverò tutte Dalla prima all'ultima Stillerò una lista E non nel video di domenica Che non uscirà Ma nel video che uscirà Quindi lunedì Ci sarà L'estrazione Del vincitore In diretto Ovviamente Come è già stato fatto Nello scorso giveaway Quindi Una cosa davvero Molto molto interessante Vi consiglio di partecipare In tantissimi Vi ripeto Più partecipate A questo concorso Più ci saranno altri premi Da qui in avanti Quindi Semplice Lasciare like al video Scrivere qui sotto Nei commenti Partecipo Condividere il video E dopo 5 ore Dalla pubblicazione Mandare una mail All'indirizzo Che troverete qui Nel box informazioni E scrivere praticamente Partecipo Con lo screenshot Del post pubblicato Su Facebook Nulla di più semplice Parte però Un'altra cosa Nel video di lunedì Oltre alla pubblicazione Per l'appunto Del vincitore Quindi all'estrazione Del vincitore Di questo fantastico Powerbank Che sarà poi Risposto Di converso All'email Che riceverò Nel caso Per l'appunto Di vincita In cui vi chiederò I vostri dati personali E l'indirizzo di casa Per spedire il Powerbank Ovviamente Tutto a spese mie Possiamo Fare una cosa Molto divertente Sempre qui nei commenti O magari nel canale Telegram A me lo riferisco Qui nei commenti Scrivete Una domanda Lunedì Oltre alle estrazioni Ci sarà un FAQ Time In cui risponderò Alle vostre domande Di qualsiasi tipo Non per forza tecnologiche Anche personali Anche Non lo so Sulla fine del mondo Psicologiche Motive Qualsiasi cosa Fatemi qualsiasi tipo Di domanda Io raccoglierò Le più interessanti E risponderò Lunedì Prima dell'estrazione Sempre nel video Che uscirà Intorno alle 16 Quindi ragazzi Spero che per oggi Il video vi sia piaciuto Che sia tutto E che parteciperete in tanti Aspettate le vostre email Ciao 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 Grazie a tutti.